Due casi di guida in stato di ebrezza si sono verificati nel comune di Colli al Metauro Protagonisti dei due episodi, differenti tra loro, un cinquantenne ed un sessantenne Per loro sanzioni salate e per uno è scattata anche la denuncia da parte della polizia locale I fatti risalgono la scorsa settimana quando a Villanova il cinquantenne in evidente stato di alterazione Dovuta all'alcol si è scagliato in vendo animatamente contro gli agenti impegnati in un posto di controllo Lamentandosi di una fantomatica multa elevatagli alcuni mesi prima dagli agenti Però i quali hanno sospettato gli eccessi alcolici dell'uomo anche se in sella ad una bicicletta elettrica E così lo hanno sottoposto all'alcol test che ha evidenziato un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito Che è costato all'uomo una denuncia a piede libero ed un'ammenda in caso di condanna che va da 1.500 a 6.000 euro E l'arresto da sei mesi a un anno Ad un sessantenne invece che stava procedendo con la sua auto in via San Liberio a Villanova È stata ritirata la patente sempre per un tasso alcolemico superiore al consentito È applicato il fermo del veicolo per 180 giorni ed elevata una multa da 1.000 euro Dopo che è uscito di strada con la sua auto danneggiando gravemente due pali della pubblica illuminazione